Il terremoto fa di nuovo paura agli aquilani. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata infatti registrata dagli NGV questa mattina alle ore 5.24 a Villa Sant'Angelo, comune a sud dell'Interland dell'Aquila. Rilevata a 10 km di profondità, la scossa di oggi segue quella di ieri di magnitudo 3.4 con epicentro a Capitignano. La mente torna inevitabilmente alla tragedia della 6 aprile del 2009, ma non dormono sogni tranquilli neanche in Molise, dove la popolazione è ancora scossa dal terremoto di intensità 3.6 avvenuto lunedì notte. A Campobasso le scuole sono rimaste chiuse, nonostante il gelo di queste ore a causa del maltempo. La preoccupazione per le scuole appunto e per gli edifici pubblici ha dei fondamenti. In Italia sono 24.000 le scuole con aree a rischio sismico, mentre 7.000 sono quelle a rischio idrogeologico. Dal 1944 al 2012 sono stati 240 miliardi di euro di costi derivati dalla mancanza di prevenzione, intesi come danni provocati da eventi naturali, di cui il 75% da attribuire ai terremoti. L'allarma è stato lanciato in queste ore da Domenico Angelone, consigliere nazionale dei geologi, che nei prossimi giorni scriveranno al ministro dell'istruzione Stefania Giannini per chiedere un pronto intervento sugli edifici.